E' corsa contro il tempo inteso sia come ore che avvicinano i salernitani ai festeggiamenti per San Matteo il Santo Patrono ma anche come condizioni meteorologiche che stanno causando non pochi disagi per riaprire il tratto del corso Vittorio Emanuele interessato già dai lavori di pavimentazione. Il comune di Salerno ci tiene a mantenere la promessa e così ha annunciato l'apertura del primo tratto dell'area compresa tra via Santi Martiri Salernitani e via Diaz dove sono state rimosse le transenne. Il comune di Salerno ha deciso di riaprire il corso alla vigilia della festa di San Matteo nonostante le avverse condizioni meteo delle ultime giornate abbiano impedito il completamento dell'arredo urbano. Mancano per esempio ancora alcune panchine ed alcune rifiniture. Soltanto la prossima settimana si potrà così provvedere al completamento integrale dei lavori come da progetto. Per intanto però gli operai dell'impresa interessata erano al lavoro intensamente per completare il secondo lotto anche via Diaz via dei Principati che dovrà essere inaugurato prima di luci d'artista. Ma sono ore di intenso e febbrile lavoro per il comune di Salerno anche per definire i dettagli del piano traffico in occasione di San Matteo e della processione che attraverserà il centro della città nel pomeriggio commissione di vigilanza in questura per definire i dettagli del piano traffico. Questa mattina l'ordinanza è stata accompagnata da momenti di fibrillazione per un errore legato al nuovo dispositivo di traffico che riguarda l'interruzione di via Martiri Salernitani. A differenza infatti degli anni precedenti il nuovo dispositivo prevede la possibilità di percorrere via Diaz e via Nizza nel tratto dal trincerone ferroviario a piazza Casalvola come valvola di sfogo per la chiusura del sottopasso. È la principale differenza rispetto allo scorso anno ma pure un errore nella prima ordinanza fatta circolare le strade erano state comunque chiusi al traffico mentre resteranno soltanto vietate alla sosta.